Le opere più importanti che Calvino scrive negli anni 50 sono Il Visconte di Mezzato, Il Barone Rampante e Il Cavaliere Inesistente. Il Visconte di Mezzato è la storia di un personaggio vissuto nel 600 fatto in due da un colpo di cannone. Il Barone Rampante invece è un adolescente vissuto nel 700 che decide di passare il resto della propria vita sugli alberi. Il Cavaliere Inesistente è una sorta di non personaggio, un'armatura senza corpo vissuta ai tempi di Carlo Magno. Malgrado i tre testi siano ambientati in un'epoca lontana e favolosa, il passato in realtà è l'altrove da cui parlare del qui e dell'ora. Tant'è vero che nel 1960 Calvino decide di ripubblicare questi libri sotto il titolo I nostri antenati, esplicitando in questo modo lo stretto rapporto che intercorre fra il contenuto dei tre testi e le condizioni dell'uomo contemporaneo. Il Visconte di Mezzato, Il Barone Rampante e Il Cavaliere Inesistente sono testi apparentemente facili, ma che in realtà costruiscono una rete complessa di livelli del discorso. L'uso della cornice narrativa, per esempio, crea un gioco di punti di vista che serve a mettere tra virgolette, a guardare da una distanza critica lo stile di vita dei protagonisti. Le vicende sono raccontate da un altro personaggio che introduce un punto di vista estraneo dentro la storia e che si interroga su di essa con un effetto metaletterario che esibisce ironicamente il valore problematico della narrazione. A pensarci bene, Il Visconte, Il Barone e Il Cavaliere inaugurano uno dei temi fondanti della poetica di Calvino. Tutte e tre sono infatti figure di leggerezza, di mancato radicamento alla vita. E questo vale per la posizione a metà del Visconte, ma vale anche per la posizione del Barone, che non mette mai i piedi per terra. E vale ancor di più per il Cavaliere inesistente, che è un'armatura senza corpo.